Sindaco, di nuovo in Regione per continuare a insistere su questo problema di cingoli, lei sostiene il diritto alla vita e il diritto alla salute? Sì, di fronte a dei casi così emblematici, la persona colpita da ischemia che viene soccorsa dopo un'ora e un quarto, un'altra persona colpita da infarto che viene soccorsa da un medico dopo un'ora, penso che dimostri in modo inequivocabile che noi difendiamo non il diritto alla salute ma il diritto alla vita. È previsto che l'ospedale di cingoli abbia l'ambulanza H24, è previsto che abbia il reparto di lunga degenza, noi non possiamo essere più tolleranti con questa inerzia regionale che ormai fa della politica tutto un fascio perché chi deve essere soccorso ha il diritto di esercitare un diritto universale che appunto è il diritto alla vita e non alla salute. Dopodiché se si tratta di ridurre le spese sanitarie è responsabilità del governo regionale farlo, ogni sindaco sa che di fronte al venir meno dell'80% delle entrate deve fare i conti dentro casa sua, io l'ho fatti nel comune ma non ho chiuso scuole o trasporti scolastici, quindi il signor Spacca che è il presidente della regione, l'assessore Mezzolani che è l'assessore sanitario e i dirigenti devono tagliare semmai i loro stipendi, le loro retribuzioni, le loro indenità ma lasciare il nostro pronto soccorso. Noi siamo qui da 16 giorni, continueremo, se sarà il caso andremo di fronte alle sedi giudiziarie, ma sia chiara una cosa, che esiste anche il diritto di ribellione e di difesa legittima, quindi io non sono qui per minacciare ma non abbiamo sicuramente paura di questo assordante silenzio che viene da chi avrebbe la responsabilità di dare delle risposte. Mi auguro però che non succeda nessun evento in fausto, che nessuno ci perda la vita in questa organizzazione sanitaria così sballata. In questa battaglia Cingoli non è sola, ci sono anche i comuni di Apiro, Poggio San Vicino e il comune di Staffolo. Siamo con Riccardo Lucchetti che è un assessore del comune di Apiro, ecco anche voi sostenete questa linea. Cingoli, l'ospedale di Cingoli che per noi è indispensabile dato che siamo un paese limitrofo e ne utilizziamo i vari servizi. Quindi voi chiedete le stesse cose, insomma che vengano mantenuti i primi presidi sanitari? Appoggiamo questa causa al 100%.